Allora, quando vediamo queste opere, la prima cosa che ci deve venire è che tutto è possibile. Dobbiamo pensare innanzitutto che il limite a quello che immaginiamo non c'è. Perché si vede che l'uomo si è posto sotto il profilo dell'infrastruttura e la notte della cultura. L'intervento di sei paesagisti, di sei artisti, che attraverso delle installazioni guardano queste grandi opere, dal punto di vista del paesaggio, trovo che sia quello che Triennale ha offerto in più rispetto alla straordinaria esperienza in Ubi. Noi siamo i figli dei figli, dei figli, dei figli di Michelangelo e di Leonardo. Siamo capaci di fare le cose che abbiamo fatte da Peppegno, le facciamo in tutto il mondo. Facciamole anche a casa nostra, che serve per il lavoro dei nostri figli. Grazie!